Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di MonopolyCore Dividiamo a 1000 like, condividete il video e iscrivete al canale di essere nuovi Lascio l'hashtag MonopolyCore qua sotto i momenti per i cero un cuoricino E andiamo avanti con questa nuova puntata Vi ricordo che in descrizione trovate il nostro gruppo facebook Per regalare carte, possibilmente non scambiare E la cosa importante è che quello che vi avevo detto ieri sono riuscito a farlo Ho usato tantissimi dati quindi il vantaggio effettivo non c'è stato Però diciamo sono andato a paro come vi dico sempre ragazzi Sono riuscito ad arrivare ai 7500 dati e alla bustina cicciotta che mi ha dato quello che vedete sulla destra Ci sono i screenshot che ho fatto ieri dal cellulare che mi sono passato tramite whatsapp Così potevo mandarveli e farveli vedere Allora, 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 leviamo questi screenshot e andiamo nella giornata di oggi Non so se sono primo perché ieri non sono entrato per vedere E quindi ho paura che mi abbiano superato la sera Giustamente fino alle 6 ero primo però non di tanto ero 10.000 mi sembra Ho un po' di ambizioni che mi mancava e mamma mammutta che mi mancava Non sono doppioni ragazzi, sono nuove Ok? Allora, andiamo a vedere che succede Andiamo a vedere giorno 4, va bene E speriamo di essere rimasti i primi Così prendo 1.500 e salgo un altro po' Che non sarebbe mica male Ok, altri doppioni Speriamo di avere qualche doppione che vi serve anche a voi ragazzi Vi invito oggi a passare a vedere il video di Battle Cats Che trovate in descrizione Sì, in descrizione, scusate Come secondo video Probabilmente farò un recap Ok, sono 11.598 E Marciu non ha continuato a pushare Quindi sono primo Giustamente sono riuscito ad arrivare a questo punteggio Perché ho utilizzato quasi 7.000 dati veramente E infatti adesso siamo riusciti a ritornare a 61.000 Circa grazie a questo Quindi non è che siamo andati in vantaggio Però abbiamo fatto la giocatona Ok? C'è il bonus nuovo che oggi andiamo a vedere Che cosa ci dà Ci sono gli M che ho visto già ieri Modello marino doppione ragazzi Qualcuno me l'aveva chiesto Speriamo che me l'avete chiesto anche nel video di ieri Così almeno ve lo scambio Ok Ve lo regalo, non ve lo scambio 34 amici aggiunti Mamma mia ragazzi Mi aggiungete di continuo Ringrazio tutti quelli che mi regalano le carte Che siete tantissimi E vai così Roba gratuita Siamo a 61.421 Non siamo altissimi Però ce la possiamo giocare E ci sono anche gli M Quindi se riusciamo a guadagnarne tanti Possiamo prendere altri dati Ok Allora vediamo un po' Il torneo che è in corso adesso Scarietta l'ottore Quindi è un torneo normale Che prende però bonus con meca rapina Va bene Perché c'è la meca rapina in corso Va bene così Risolviamo un po' di distruzioni Che mi avete fatto come sempre Facciamo qualche costruzione Per giustamente Levarci qualche soldino Se no Ci rimangono sul groppone Perfetto E si va avanti Allora Amici Vabbè sicuramente qualcuno di voi Che mi ha mandato amicizia Cassa community Vediamo un po' Se ci gira bene Speriamo Per 50 Dopo un po' Ci vorrebbe eh Allora Diverse scatoline Molto carine Ok Vediamo un po' Niente Dollari Non sono bonus amici Peccato 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 Vediamo un po' Se riusciamo a farlo normalmente Va bene Abbiamo levato un altro Personnaggino Salutiamo le persone Che sono qui Nella cassa community Ok Una bustina What Una bustina Piccola Giustamente una carta sola Però è già tanto Dai Ok Avvia Vediamo un po' Se riusciamo a prendere un'altra Va bene Siamo a per 5 Stiamo svuotando E questo mi fa tanto paura C'è della lag C'è della grossa lag E mi preoccupa un po' Ah Dai chiave No La chiave no Te prego Perché Va bene Grazie ragazzi Che hanno partecipato Alla community Perfetto Abbiamo 10 miliardini Messi a pizzo Che poi costruiremo Allora Andremo a giocare a per 50 Per iniziare Ovviamente Ci teniamo bassi Anche perché c'è Quest'acqua avventura Che speriamo di prendere Dei bonus buoni E di passarci sopra E ci basiamo Sul 59.000 Oh Imprevisto Subito stazione Così a secco Va bene Una distruzione Ana Non è tra i miei amici Sicuramente Andiamo a Controllare Chi mi ha attaccato Di più La vitality Mi ha attaccato Di più E non so come Sta conciata Però quindi Non so se attaccarla Vorrei andare a vedere Pasquale Se non ha riparato Se Pasquale Non ha riparato Continuiamo a attaccare Sul Pasquale Non ha riparato Pasquale Perfetto Pasquale non sta giocando Quindi attacchiamo Pasquale Ieri pomeriggio Mi sembra che Ho attaccato Pasquale Una volta Dopo il video Ok Un bel per 50 Immediato Quarta posizione Giustamente Possiamo chiedere Stelle Però Già È tanta roba E anche Qualche dato 35 5M E bustinina Io ho visto Qualcuno di voi Che nei bonus Ha ottenuto 20 minuti Di per mille Non so come avete fatto Ma spero che mi arrivino Così appena arriva Proprio finisco il video E vado A fare i per mille Oppure lo facciamo in video Anche se ho paura tanto Io il per mille È buono Ma l'altro giorno Ho speso 4000 E ho guadagnato Veramente poco Ok È un rischio grosso Il per mille Magari un per 200 Uno potrebbe pure Giocarcelo In video Invece fare a per 100 Giochiamo a per 200 Potrebbe essere un'idea Allora 5, 6, 7 Non stiamo passando Sui bonus Imprevisto Molto buona probabilità 150 dati Ok Se non ero Quella è su società Acqua avventura Mi sa Quindi sarà pure Difficile passarci 6, 6, 12 Andiamo su stazione Niente male C'è un po' di micro lag Ragazzi Mi scuso Anche perché Oggi ci sono state Delle disconnessioni C'è pure il suono di whatsapp Spero che non si sia sentito Mo lo chiudo Perché giustamente Morduk è furbo Si è sposta la roba W whatsapp Sul pc E poi la lascia acceso Ok Amici Stavamo da Pasquale Un attimo di distrazione Di whatsapp Ok Vai Continuiamo l'attacco Su Pasquale Ti dispiace Pasquale Ma eri Bello indifeso Quindi Ti attacchiamo Spero che Non te la prenderai Ok 200 punti Un altro bonus Non saliamo di posizione Non saliamo di posizione Perché ovviamente Stiamo gi- Oh 5 minuti 5 minuti di Di quello Si Fermi Giochiamo a per 200 Regà Facciamo la pazzia No Stazione sprecata Rapina No ok Distruzione Uh Io giocherei a per 200 O a per 500 Facciamo qualche pazzia Di quelle grosse Una giocata a per 500 Di quelle Sbam Tanto i dati ce li abbiamo Uno dice vabbè Uno sa rischi Allora andiamo da Pasquale Però da stazione Sinceramente è molto pericoloso Io giocherei a 200 Anche perché su 5 minuti Quindi Quanto ci conviene Per mille Eh È un bel rischio Potrei pure azzardare Allora Vediamo un po' Se mi ci manda Eh però Mi ci fai andare Almeno Ok Allora 100 dati Oh io me la rischio pesa Facciamo mille Giocata per mille Tanto abbiamo 61.000 Arriviamo a 50.000 Facciamo pesa Dipende quanto facciamo Cioè nel senso Eh se no riabbassiamo il tiro Anche perché In 3 minuti Possiamo fare ben poco Allora Ci è andata molto male Ok Secondo tiro Uh Probabilità Eh che tristezza Vai Altro tira per mille 58.000 Ah 57.000 Sto a fare L'errore della vita 56.000 Niente Bruttissima sta cosa Armor Che su 9.99 È fantastico comunque Eh Veramente fantastico Eh Ancora Che rischio grosso Vai 6.7 Niente probabilità 54.000 Giocata per mille 53.000 Mmm Quanto sta droppando Eh no Sta andando veramente male Questa giocata per mille Porca miseria Uno schifo Uno schifo totale Ti riprovo Basta Ah Niente dai Non ci Oh 3.000 punti su acqua avventura 3.000 punti su acqua avventura Prendiamo qualche bonus buono No non penso buono Perché 3.000 punti Non so tantissimi Sembrano tanti Però Eh Però mo devo pure aspettare E finiscono No No mi fai scadere i cosi Ok 450 dati Abbiamo preso Secondo me Ho fatto una grandissima cavolata A far sta giocata Vorrei dirlo eh Però Madonna quanta roba Uh Alti 10 minuti Per mille Aspetta che forse Forse È venuta carina La faccenda eh Forse è venuta carina La faccenda Non si ferma più Ragazzi acqua avventura Non si è fermata più Ma ho fatto 2.800 dati E altri 10 minuti di quella Tante bustine E tanti M È pazzia questa Lo so che è Lo sbaglio della vita Ma io vorrei continuare Che ce frega Ce li abbiamo i dati Facciamo la mega giocata Della vita Eh Altri Altri Eh sì Niente male Abbiamo 10 minuti Se vedo le brutte Calo e vado a 200 per A sto punto Comunque è rischiosissimo Quello che sto fa Infatti Già abbiamo droppato Di un'infinità Però la giocata È fatta Cioè Vediamo un po' Congratulazioni Va bene Madonna quante bustine Ma da dove sono arrivate Queste? Perché mi hanno dato Tutte queste altre bustine Raga? Non ho capito Si sta buggando qualcosa? Un po' Un errore gigantesco E crasha tutto Ok Non so che cosa sia successo Ma mi ha regalato Un sacco di carte E tante bustine Non so perché Congratulazioni Guardate quanta roba Mi sta da Ma mi si è sbaggato qualcosa Non so cosa è successo C'è qualcosa che non va Mi sta regalando un sacco Di roba Non capisco Non capisco Cosa succede Vabbè Io continuo Riprovo Che devo fa' Vai So pazzo Lo so che so pazzo E no dai Afferra la grana per mille No Cavolo Al torneo Non ci capitiamo mai È sbaglio Bella rapina Per mille O po' Pazzia Ok Vai così Vai così Olè 208 miliardi Che diventano No 208 miliardi Diventano 208 miliardi Vai Alta giocata per mille Sono pazzo Lo so Armor per mille Fantastico Società Acqua avventura Quindi è come se Non abbiamo tirato E prendiamo tutti i bonus Di acqua avventura A 3000 Uh 1500 dati Bustina cicciotta Tantissimi M Allora Secondo me Ripeto La giocata è sbagliata Non lo dovrei fare Però Per il content Questo ed altro Ragazzi Pazzia Lo so È pazzia Rischio di perderci Veramente tanto Anche perché Ci abbiamo ancora 9 minuti Allora Abbiamo anche soldi A profusione Adesso Andiamo un po' Passaci su una stazione Però una Niente Una che sia una Non ce la vuole dare Assolutamente Stiamo per scendere Sotto i 50 mila Eh Armor Però No non è società Dai Daccene una Testazione Niente C'è verso Regà C'è verso Ultimo dirà per mille Perché se no penso Che vado troppo in drop Oh società di nuovo Acqua avventura Fermi Fermi Che sono buoni Fermi che stiamo impazzendo Ok Ci stanno 2000 dati Eh lo so Sto a fare la pazzia della vita Ma è divertente E è rischioso Ok Stiamo trovando tantissime carte Sperando di prendere quelle Dai 6000 dati Sarebbe magia Ok E dai però Non mi puoi alisciare così le stazioni Cavolo Sto facendo la giocata più Pazza della vita E rischio veramente tanto Anzi Già ho rischiato Perché sono andato sotto De parecchio Non lo so Non lo so Sto facendo una grande Sto facendo una grandissima cavolata Lo so Lo so Ah La giocata per 1000 È più drastica Della storia Facciamo il droppino Dati per voi Poi la costruzione In questo video Durerà una vita E poi siamo dodicesimi Perché non stiamo andando A per 1000 Cioè non siamo capitati Oh qualcuno mi ha regalato Borzeccio Grazie Fede Dai una stazione Prendila però Una Niente Eh Sono arrivato a 42.000 Raga 41.000 Niente Allora io mi fermo a 40.000 E poi gioco normale A per 50 Se no Il drop diventa Veramente esagerato Imprevisti Stazione Alleluia Una stazione Dimmi una rapina Per 1000 Oh mega rapina Per 1000 La devo acchiappare Raga la devo acchiappare Acchiappare La te prego Uh Quanto è Per Per 3 Va bene Sarebbero 3 Milioni 3 Miliardi Ok Eh vabbè Ha un miliardo Capito bene No Milione Miliardo Biliardo Quello è un biliardo Per noi 8000 punti Sul torneo Arriviamo un po' Arriviamo primi Sicuramente Per ora Pazzia Pazzia E prendiamo Diversi bonus Ok Ci piace Ci piace Ci piace Ci piace Esagerazione Ok Vediamo un po' 32 miliardi 1675 dati Mega rapina E tante belle bustine E tanti altri Begli M Però non recupererò mai I dadi utilizzati Per arrivarci Ragazzi Quello è sicuro 100-100 Quello è sicurissimo Anche qualcun altro Sta giocando A per mille Mi sa E quella È quella la cosa Drammatica Casomai nel pomeriggio Non so se riesco a inventarmi qualcosa Anche perché Quello è 6 minuti Stanno finendo E non ne sono arrivati altri Di rapine A per mille Roba del genere Potrei anche esagerare E fare in altri due giri A per mille Ci premiamo a 40.000 Anche perché Qua tanto siamo primi Con 24 Su 30 Potrei anche far pazzo Ma sì Facciamo il pazzo Lo so È pazzia Quella che sto facendo È proprio pazzia 3 4 5 Ah Vai Ultimo tiro Fine E vabbè però Niente Non voglio dire un altro So pazzo Lo so E dire un altro E stop Ok Ok Acqua avventura 3.000 dati Ritorniamo a 40.000 Altri 20 minuti Di per mille Molto rischioso Questa cosa è rischiosissima Non ne sono sicuro Di quello che sto facendo Ok E Dai Un altro tiro No probabilità Un ultimo tiro 5-6 Niente Armor va bene Armor è un tiro in più E vediamo di esagerare Comunque ci sono due Non so se Come si dice Non miliardi Da noi si dovrebbe Di biliardi Se non erro Allora Acqua avventura Altri bonus Altri 3.000 punti Ok Potremmo pure Prendere i 7.000 dati Perché mi sa che Pure là ci stanno I 7.000 dati È un rischio gigante Quello che sto correndo Ragazzi Proprio pazzia Lo so Però ce l'abbiamo 24 minuti Che fai Altro tiro Altro tiro Questa si chiama Proprio Sono diventato Scemo Tutto insieme Sì 2-3 Ok Ah Non so Non so Altra giocata Per mille Sto diventando Veramente matto Ok Nulla armor Mi dovrei fermare Mi dovrei Eh sì 5 Probabilità Mi fermo raga Mi fermo Basta Ho usato troppi dati E ci accontentiamo Allora Intanto riprendiamo qualche dato Perché ne ho sprecati tantissimi Quindi vuol dire che Col prossimo bonus delle carte Probabilmente Non riuscirò a recuperare tutto Col torneo Non lo recupero Con acqua avventura Forse sì Stiamo a 18 minuti Allora Cominciamo a fa questi Mamma mia Che giocatona E c'erano altri 20 minuti Raga Ma giocare a quelli A quei ritmi Mi devasto da solo Allora Vediamo un po' A quanto posso arrivare A per cento Sì Vediamo un po' A per cento Dai pazzia Eh Via Vediamo un po' Se siamo fortunati Non penso E invece Forse Forse No Ah Vabbè E prendiamo un po' Di dati Vai così Vediamo un po' Do andiamo a Finì Eh Però dai 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 Che cattiveria Ok Niente Riandiamo là Riandiamo là 500 Andiamo là Ok Due biliardi Dovrebbe darmi Bonus Ok Dai che forse I bustini Le prendiamo subito Prima non puoi andare subito Su quella triste No Vabbè Mi posso accontentare Andiamo a destra Abbiamo preso 300 dadi Fino a mo' È che ci stanno Meno dadi Su questa qua Ho notato Ci stanno le bustine Quindi recuperiamo Pochi dadi Eh ma A parte che non ho usati Troppi Sono un pazzo Lo so Sono un pazzo Mega giocata Per mille Per il content Questo ed altro Ok Manca l'ultima bustina Che non prenderò Oggi Sicuramente Possibile Che vorrebbero veramente Troppi rimbalzi Che sono apparsi adesso Invece che prima Si chiama anche un po' sfortuna Dai Diciamolo Allora Diciamo un po' 38.000 Ragazzi Ovviamente Comunque Ho usato troppi dati Lo so Troppi dati E anche se ritorno al bonus Non andrò oltre i 60.000 Non ci ritornerò subito Ok Bonus centrale Che però non mi dà sufficienti punti Per arrivare alla bustina Anche se Non ci mancava tanto Ok 5 Così posso tirare un altro bonus Buono Uh L'abbiamo presa Bustina cicciotta finale La grossa Che bello Un po' di fortuna Ok Finita la fortuna Ci siamo E vabbè Sono rimasti 3 Possiamo pure tenere là Tanto ci abbiamo ancora giorni Allora 335 Bustina cicciotta Bustina con una carta assicurata Che ci manca Ok E vediamo che riusciamo a inventarci Ok Qui è arrivata una carta Che a me mancava E già E già è tutto un dire Perfetto Poi qui Scuriosare Sicuro che ci mancava Nuova Quindi grazie Niente male Qua rifiniamo la collezione Se continua così Allora La giocata Io la fermo Perché ripeto Sono andato ben oltre Provo per fare la mega giocata Esagerata Come piace a voi Costruisco E torno da voi E penso ci metterò un po' A costruire Allora Si sono formati Dei gira la ruota Sono i primi Di oggi Ho ancora Un biliardo e 7 Quindi sto andando Veramente Esagerato Esagerato Quindi avrò tantissime carte nuove Magari finiamo la collezione Se continua così E si gira ancora Giustamente Ancora ci vorrà un'eternità Avremo tantissimi giri alla ruota In questa puntata E tantissime bustine Perché i miliardi Sono miliardi Anzi La so più che miliardi Sono biliardi Quindi Quatt Infinito Giri infiniti E tantissime carte Spero veramente Ragazzi A parte che mi da tanti doppioni Ma che mi porta veramente A rifinire la collezione Così ritorno a 60.000 a secco E altri Gira la ruota E abbiamo ancora miliardi Su miliardi Oggi è la puntata Di gira la ruota Sicuro Sicuro Che prenderò tantissima roba Peccato per i dati Molto tristi Dai doppio dato No Doppio dato 5 Non può essere Non ci credo Ok Costruiamo ancora Allora Vediamo un po' Altri due giri Ancora un miliardo Anzi Un biliardo e due Quindi What Più tante bustine Più tanti Gira la ruota Io spero di trovare carte Spero di trovare doppioni Spero di trovare tutta la roba possibile Raga Che sennò quel drop Non lo recupero neanche più Ma penso proprio Ci vorrà una vita Per ritorno Forse a 40.000 Pure pure Ma di più è difficile Altri due gira la ruota E si continua Siamo ancora Tantissimi soldini sopra Finiremo veramente Nel 13-18 Voi per fortuna Vedete solo I spezzoni E i tagli Quindi sarà molto più veloce Per voi Speriamo che per me pure Piano piano Ci entrerà più veloce La situazione Bustine tristi Io vorrei qualche bustina Rara magari Vabbè Ci accontentiamo Perché fanno doppioni E si gira Gira la ruota Mamma mia Soldi note Prego Ce n'ho già troppi Speriamo nella bustina rara Dai bustina rara Oh È arrivata la bustina rara Almeno ci troviamo Qualche carta buona dentro Forse nuova Qualche roba nuova No Solo coppia perfetta Che servirà sicuramente A qualcuno di voi E altri giri Vai così Potrei riuscire A arrivare a 13.000 Oggi Di livello Non sarebbe mica male Oggi è proprio Una puntata Opening bustine Ok Ho fatto anche 3 Per fare lo scambio Con la bustina Quella cicciotta Vediamo se Ho tanta roba piccola Che magari serve A poche persone E poi magari Ci farò lo scambio In un altro video Comunque Ragazzi Giocatona per mille Infinita Ok Un po' di rischio L'ho preso Ho fatto un drop Di dati Gigantesco Però Doveva essere fatto E si continua Con il giro Alla ruota Che non ci mancano mai Bustine Oggi mega puntata Per mille Mega puntata Opening Cioè Non c'è po' di niente Ok Altra bustina Bustina cicciotta Dai bustina cicciotta Vabbè Meglio di niente Vediamo un po' Cosa ci dà Tutte le carte 1 e 2 stelle Ok Tutto buono per scambiare Per fare numero Altro giro E penso altre due O tre costruzioni No forse due costruzioni E abbiamo finito i soldini E in più siamo a 13.000 Ok Siamo arrivati a 13.000 Adesso Adesso Però si è anche Buggato Cioè nel senso Mentre stava andando A 13.000 È crashato Che mi ha detto Ha fatto un errore Quindi muovete A vedere su 13.000 Che cosa mi ha dato A parte Non so se me lo dice più Probabilmente Avrà fatto solo L'upgrade Ok Passione canguri Doppione Che so stelle E ovviamente 13.000 Eccolo qua Ah ce l'ha dato adesso Perfetto Livello massimo Probabilità Aumenta tutti i possibili Pagamenti della probabilità Di 45 milioni Beh non è male per niente La prossima è 14 milioni Che aumenta le varie società Ok qualcuno mi ha regalato carte Va bene così Devo ancora finire costruire Non finirò mai rega Allora ragazzi Ho finito Vi ho saltato anche molti Di gira la ruota Perché se no era improponibile Sono ancora primo Non per tanto Perché vedo che già Mi stanno a recuperare E abbiamo fatto Una giocata pazza 36.200 dati Siamo arrivati Eravamo a 60.000 Quindi mega drop Però non ci frega niente Dovevamo fare la giocata pazza La dovevamo fare Voglio vedere un attimo Una cosa Giù al molo è ancora 6 su 9 Mi mancano ancora 3 carte Quindi ci vorrà Per riuscire ad avere Questi 25.000 dati Di nuovo Allora Passiamo immediatamente A vedere la collezione Vi ricordo Come ogni volta Se volete le carte da me Vostro nick Nei commenti Quindi mi dovete dire Sempre come vi chiamate In gioco Le carte che vi servono E che io ho a disposizione Che adesso vedete E che non ho dato Già il regalo E in più Mi dovete dire La vostra immagine profilo Se l'avete E non chiamarvi Francesco Andrea Giacomo Se non avete immagine profilo Perché potreste Avere tanti doppioni E quindi non vi trovo Ok? Allora questa è la situazione In attuale Tutte le collezioni Già completate Perché sono buggate E non me l'hanno ancora fixate Non c'è modo di fixarle Però intanto Qua la robina Ce l'abbiamo Ok? Stiamo andando avanti Vi sto facendo vedere Se volete Fermate Vi ricordo anche Il nostro gruppo facebook Come sempre Per gli scambi Questa è l'ultima Già al molo Che se riesco a completarla Ricompleto tutto il set Già da subito Ok ragazzi Vado a regalare le carte di oggi Allora la prima carta Che andiamo a dare Va a Francesco Unicorno ghiacciato Dice che è bloccato da un mese Sempre doppioni oro Maglia bianca E occhielli azzurri in testo Dovresti essere tu Vai Francesco Tutto tuo Unicorno ghiacciato A Marred Andiamo a dare Avvistamento È una delle carte Che mi ha chiesto Quindi vai Marred Fanne buon uso Avvistamento La terza carta Va a Brezzo Che mi chiede Sulle zampe Fanne buon uso Mi raccomando Allora Tommaso è fortunato Perché è l'unico Tommaso Che ho senza immagini Profilo Ciao Mordo Mi servirebbe Modello Marino Ti prego finisco il set Da 4 mesi Che lo cerco Ti prego Ok Prego Tommaso Fanne buon uso Spero che completi il set Vai così Cime mi chiede Una carta bassa Che però gli serve Per completare il set Quindi assolutamente Vai Cime Prenditi la carta Che ti serviva Che era Luce accecante E niente ragazzi Siamo arrivati Alla fine di questa puntata Abbiamo fatto la puntata più esosa della storia Tutta per mille Giustamente il bonus è finito Quindi non ce l'abbiamo più Però abbiamo fatto veramente Una giocata assurda Ho usato tantissimi dati Ma non mi interessa Era da fare Almeno una volta Quindi spero che vi sia piaciuta Questa esosità Una volta tanto Riammi le like Condividete il video Iscrivete al canale Se noi Lascia l'hashtag ManopoliGocco Sotto i momenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao